Il Chievo Fortitudo riesce a vendicare la sconfitta in campionato contro la Riozzese in Coppa Italia. È 3-2 con gol finale di Valentina Boni, Euro-Gol che vedremo alla fine. Bella partita del Chievo, belle protagoniste. Al quarto subito il Chievo Fortitudo avanti con Giorgia Bertolotti dentro per Alice Martani. Limita dell'area, però un bel destro, Alice viene respinto in due tempi dalla Luna. Arzeno, portiere del Riozzese. Sempre al quarto, nell'azione successiva, c'è la risposta del Riozzese con Giulia Rodolfi per Esther Postiglione che da lontanissimo carica il suo destro, prova appena alto sopra la traversa. Niente da fare però per la Riozzese che vorrebbe partire come in gara di campionato. Niente da fare, intanto ci prova Alexa Benincaso. Area di rigore c'è Rigonne che scarica niente per Zoe Caneo che da lontano lascia partire un bel destro. È il ventesimo di gioco centrale, fa buona guardia la Arzeno. Venticinquesimo di gioco, Giorgia Bertolotti ci prova ancora. Una bella conclusione la sua da molto lontano, ma non ci pensa un attimo. Giorgia con un sinistro di controbalzo prova a mirare la porta dell'Arzeno. Non vi riesce ma il pallone arriva troppo debole. Minuto 31 di questo primo tempo c'è Geni Dossi per Martina Tugnoli dentro per Bianca Maria Codecà. Viene anticipata molto bene questa volta dalla Olivieri. Bravo Olivieri sui piedi di Bianca Maria Codecà, l'attaccante bomber della Riozzese insieme alla Rognoni. 34esimo Codecà, Rognoni ed Elisa Straniero con il sinistro della Straniero deviato molto bene in calcio d'angolo dalla Olivieri. 36esimo il gol del Chievo Fortitudo. Chiara Mele che se ne va in percussione là a sinistra, l'ubapalla a mezza difesa della Riozzese. E bravissima Alice Martani che riesce a trovare un giro su piede perno e proi un destro sul palo più lontano a fil di palo. Niente da fare per Lunarzeno ma la giocata della Martani è da antologia. Gran bel gol della Martani, vantaggio del Chievo Fortitudo 1-0 36esimo. 4 minuti più tardi però c'è il pareggio di Elisa Galbiati che serve la Martina Tugnoli per il gol dell'1-1. Niente da fare per questa volta per Olivieri. Gol del 1-1, risultato col quale si chiude il primo tempo di questo Fortitudo Chievo Riozzese. Gara, ricordiamo, di Coppa Italia. Calcio di punizione, Alexa ben in caso con il tap-in di Giorgia Bertolotti. Credo di aver visto, poi dietro di gara alza la mano destra. Molto decisa, molto netta, probabilmente è stata posizione di fuorigioco. Ancora il Chievo con la Martani che va a trovare il gol del 2-1, minuto 22 di questo secondo tempo. Una bella girata, limite sinistro dell'area di rigore piccola dell'area della porta difesa da Lunarzeno. Niente da fare per l'Arzeno. Bella girata ancora una volta della Martani che sorprende. L'estremo difensore della Riozzese prova ancora a replicare la Riozzese. Minuto 26, 4 più tardi. Rognoni per Elisa Lecce con ancora Rognoni a botta sicura. Ma lì c'è la sala cinesca Olivieri che non fa passare assolutamente nulla. Bella chance per il gol del 2-2. Chance rinviata. Chievo Fortitudo con Diana Mascazzoni che avvia questa cavalcata poderosa. Limite sinistro dell'area di rigore. Prova l'esterno destro. C'è calcio d'angolo probabilmente in quella occasione. Ma ha provato l'unica cosa possibile appunto. L'esterno destro. Attenzione a quel che fa in questo caso la Rognoni. Che dà palla a Codeca per il gol del 2-2. 41esimo di gioco. Sembra fatta per la Riozzese. Gol ancora di Bianca Maria a Codeca. Ma di lì a poco, un minuto più tardi. Intanto rivediamo il bel gol di Bianca Maria a Codeca. Però tra poco, tra un minuto, meno di un minuto, c'è il gol. Capolavoro della Boni con Benincaso. Alexa che si gira, spalla la porta, si gira, vede nel corridoio. La Boni che prima perde il pallone e poi fa una finta prestigiosa alla Lunarzeno. Per i gol del definitivo. 3-2 del Chievo Fortitudo sulla Riozzese. Rivediamo il gol bellissimo. Fa sedere il portiere e poi piazza palla per il 3-2 finale. Domenica prossima, Novese-Riozzese, ma soprattutto Ravenna-Chievo. E siamo già in campionato.